Per ottenere i diritti degli stipendi che non abbiamo avuto ci siamo proposti per riaprire lo spreco dell'Inps di battaglia che deve essere concepito come un bene sociale per le malattie di cui i lavoratori soffrono e non avere lo spreco della sanità. Oggi siamo venuti ad aprire per dare una dimostrazione che questo si può fare. Grazie a tutti.